Oggi mi trovo nuovamente nella regione Avruzzo, nella provincia di Chieti, a pochi chilometri dal mare Adriatico, nuovamente in un'azienda ormai che fa parte della mia selezione, Colle del Sole. Sono qua con il suo proprietario Fabio, che stiamo passeggiando tra alcuni dei suoi vigneti. Fabio, oltre a produrre i principali vini del territorio, tra cui il Montepulciano d'Abruzzo, produce anche alcuni altri vini un po' più internazionali, tra cui il Merlot. Però è un Merlot vinificato in bianco, un Rosé, che ha una caratteristica tutta sua, molto particolare, che non ho mai trovato in nessun altro vino. Adesso Fabio ci racconterà un po' la caratteristica di questo Merlot Rosé e da cosa è portata. Allora, il nostro Merlot è molto particolare innanzitutto perché è un terreno sabbioso esposto sul mare. Quindi è anche molto minerale. Sì, è anche molto minerale. E poi questo Merlot viene raccolto intorno alla metà di settembre, quando vediamo che la maturazione ha raggiunto l'equilibrio tra il grado zuccherino e l'acidità dell'uva, per avere una bella struttura acida e naturalmente una bella gradazione alcolica. E totalmente in acciaio. Totalmente in acciaio. Allora, questo vino viene prodotto con le uve di Merlot che viene fatto, vinificato in bianco, viene raccolto, portato in cantina, messo direttamente in pressa, poi viene abbattuto a 4-5 gradi, fatto una chiarifica statica e poi viene messo a fermentare il mosto limpido. Da lì fermenta su pergiù una quindicina di giorni, fa una fermentazione molto lenta, con degli lieviti selezionati. E la parcolità di questo Merlot è che il terreno ci è contato da piante di visciole, che sono delle ciliegie selvatiche. Che crescono un po' più come cespuglio o come una pianta vera e propria di una ciliegia? Allora, ci sono piante coltivate, però essendo che è selvatico ci sono anche dei cespugli di questo prodotto. Il periodo coincide con il periodo della fruttura di queste visciole e dell'uva sono quasi in coincidenza e viene fatto come un'impollinazione. Infatti al palato ha veramente un incredibile gusto di viscia, di ciliegie, ma veramente si può quasi dire estremo, cioè è una cosa incredibilmente unica. Sì, vabbè, quella è quella che spicca di più, però c'è anche frutti di bosco, c'è caramello, c'è molti profumi che escono fuori. Non è un vino molto dolce, infatti c'è una bella acidità. Sì, infatti soprattutto nella parte finale ho trovato che all'inizio ha un frutto molto 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 evidente, ma nella parte finale ha questa acidità che tende a ripulire completamente la bocca. Sì, poi il colore, noi parliamo di un vino vinificato in bianco, che è un rosè, però è un colore che si avvicina quasi più a uno rosso, è molto intenso ed è una cosa, anche questo è un'altra delle cose che mi ha stupito di questo vino. Sì, perché qua in Abruzzo il Merlot viene molto carico, infatti dipende dalle annate, un'altra viene un po' più scura, un'altra viene un po' più chiaro. Come viene? Noi lo facciamo, non è che ci stiamo là a fare correzione e cose, perché il vino è quello, nel senso che la particolata di quel vino viene così. Beh, sicuramente dopo questo vino è un vino che abbiamo assaggiato da poco, è un vino che personalmente consiglio di degustare leggermente, un po' più freddo, degli altri vini, diciamo rosè o vini in bianco, è un vino che come abbinamento sicuramente può essere consigliato come aperitivo o anche un vino secondo me da dessert o con qualche formaggio magari un po' più stagionato. Sì, 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 i formaggi vanno benissimo e soprattutto è un vino da capire, nel senso che se lo riesci a capire lo apprezzo. Allora io ho una bella idea, torniamo alla tavola e andiamo a cercare di capire meglio questo vino con Fabio. Allora io ho una bella idea,